Dario Ricci, direttore artistico del Festival Rocky Marciano, un appuntamento che ormai è diventato imperdibile, rinunciabile. È davvero un grande onore tornare a Ripa per il terzo anno consecutivo con la terza edizione del Festival che affianca il premio, giunto invece alla quattordicesima edizione, anche quest'anno tanti incontri, dibattiti per parlare della cultura dello sport che più ci piace e soprattutto anche tanti campioni, da Antonio Tartaglia, l'oro olimpico nel Boba 2 a Nagano nel 98, a Oscar de Pellegrin, portabandiera paralimpico a Londra 2012 e campione paralimpico sia nel tiro dell'arco che nel tiro a segno, al grande alpinista Daniele Nardi e poi una delle più grandi sportive della storia d'Italia, Valentina Vezzali, cui verrà conferito il premio Rocky Marciano alla carriera per gli sportivi che hanno fatto grande l'Italia nel mondo e chi più della Vezzali lo ha fatto. Veramente è un grande onore avere ospite a Ripa, Tatina, la città dei campioni, il borgo della box, la regina del fioretto mondiale. Lei poi ha scritto una biografia, quella del campione di ciclismo Riccardo Riccò, quali sono gli spunti? Qual è l'insegnamento che ci arriva da questa autobiografia? Beh, il fatto che il ciclismo è cambiato sì, ma non tanto come vorremmo e come sogneremmo. C'è ancora tanto da fare per smantellare quel sistema in cui anche Riccò era entrato allora e che vede spesso nei ciclisti non solo, come è capitato con Riccò, anche dei colpevoli, ma ancora più spesso gli anelli deboli di una cadena di connivenze che va al più presto smantellata. Non solo per Ripa, Tatina, ma anche per tutto l'Abruzzo è un momento molto importante. Abbiamo tanti patrocini importanti istituzionali. Quest'anno l'Università d'Annunzio ha voluto partecipare nelle sue attività. La Regione Abruzzo e tutte le altre istituzioni ci sono vicine. La giuria si è riunita, a brevissimo usciranno i vincitori, ma avremo una campionessa del mondo di Pugilato. Però lascio alla giuria decidere e svelare il nome della campionessa.